Siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino. Questa sera ci occuperemo del comune di Vallefoglia insieme al suo sindaco. Buonasera, do il benvenuto e bentornato nei nostri studi a Palmiro Ucchielli. Buonasera, buonasera a voi. Ricordiamo come sempre i numeri di telefono sindaco per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure 338 49 68 250 per inviarci un messaggio anche con l'applicazione di Whatsapp. Nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia sindaco abbiamo visto un servizio dedicato al nuovo spazio della cultura che è stato presentato nei giorni scorsi nella Torre dell'Arte Contemporanea. Quindi anche questo è un bel avanzamento, un passo in avanti per giovani, studiosi, curiosi. Sì, è un'altra opportunità che i cittadini di Vallefoglia hanno in Palazzo Mamiane, la Torre e il Castello di Sant'Angelo dell'Isola. Lì abbiamo anche restaurato, diciamo, il Teatro Branca, teatrino molto importante per le colline che ci accomuna un po' anche con i comuni di Pesero, Gine Stretto e Monticicardo, due ex comuni diventati poi frazioni della città di Pesero. E poi lì abbiamo, grazie alla famiglia Cacciaguerra, inaugurato recentemente anche il Museo Venanzi, la Chiesa di Sant'Egidio. Quindi il tentativo è quello di valorizzare anche, diciamo, gli aspetti storici, culturali, paesaggistici, ambientali. Insomma, essendo una città industriale, però le caratteristiche che mantiene sono una storia antica importante e sono anche un paesaggio, una enogastronomia davvero importante. Quindi questo è un altro passo, diciamo, che va nella direzione di voler far conoscere quel territorio. Oggi, insomma, i media hanno una dimensione anche internazionale, quindi uno, se vuole, basta che clicca sul portale di Vallefoglia, il portale turistico, e capisce qual è la storia, quali sono le caratteristiche e soprattutto anche qualche idee per il futuro. Però l'amministrazione comunale è al lavoro per diversi progetti. Questo, innanzitutto, è l'anno del nuovo comune. Questo è l'anno del nuovo depuratore, che è il secondo dopo quello di Borgheria di Peddero, che depura tutta l'asta fluviale, con un forte impatto positivo sull'ambiente e anche di opere igieniche e sanitarie. È l'anno del nuovo comune, è l'anno dell'avvio dei lavori del nuovo teatro Giovanni Santi a bottega di Vallefoglia, è l'anno degli asfalti, è l'anno delle ciclo pedonali. Insomma, abbiamo un cantiere di opere pubbliche importanti e un forte cantiere di attività produttive, private, che danno l'idea, se uno passa dalle nostre parti, che è tutto un cantiere, insomma, è tutto un movimento di opere pubbliche e private che danno lavoro, crescita e danno un'idea di una città in movimento, in forte movimento. Infatti siamo in controtendenza anche con le nascite, con i matrimoni. Esatto. È una città molto vivace, diciamo. La Valle del Fare, appunto, che crea benessere, che crea occupazione e data del 31 gennaio 2022, come vediamo, Vallefoglia è tornata a superare i 15.000 abitanti. Una bella notizia. Sì, siamo, come dicevo, un comune in forte crescita. C'è un via e vai abbastanza importante di persone che vengono d'Italia e dal mondo perché penso di trovare lavoro, se trovano loro rimangono, se non trovano lavoro se ne vanno, poi ritornano. Insomma, c'è una mobilità di centinaia di persone che comunque hanno una tendenza a quello di continuare a crescere. Vallefoglia è il terzo comune della provincia di Pesurbino ed è al centro con Montecchio, dove facciamo il nuovo comune, dove c'è la Casa della Salute, dove ci sono le banche, i supermercati, le fabbriche, eccetera, che ne fanno un polo di oltre 50.000 abitanti. Io faccio sempre un po' il paragone con Fano, perché Fano ha circa 60.000 abitanti, Vallefoglia ha 15.000 abitanti, però è come se fosse Montecchio, la piazza di 20 settembre di Fano, un po' il centro di una vallata, di un'area di comuni abbastanza omogenei e quindi, diciamo, importante, perché quella è una realtà dove vengono nei supermercati a fare la spesa da mezza provincia. L'altro ieri ero a colazione nella nuova mensa, che sembra altro che il ristorante del Senato, la nuova mensa di Vitrifrigo Rivacold, che ha circa 2.000 metri di mensa nuova, 28.000 metri di capannone, quindi una situazione in forte movimento e che consente di avere forse anche delle opportunità ad una nuova mobilità sostenibile per quel che riguarda l'azienda dei trasporti, l'AMI, che è l'azienda pubblico privato, e che può raccordare bene con le nuove attività che crescono. Rivacold è una delle attività importanti. Civitas Marche è un centro di coesione sociale che, diciamo, assumerà, almeno così dicono loro, 150-170 persone. Quindi, ecco, come si vede c'è una movimentazione produttiva, una vivacità civico-culturale, un'attività che diventerà sempre più nella rete dei teatri marchigiani e anche teatrale. Quindi, il 2022, l'anno del Comune del Teatro della Deporazione, il 2023 sarà l'anno, appunto, di nuove attività anche culturali e di una forte crescita imprenditoriale. Prima ha parlato anche della Casa della Salute, un argomento che è rimasto sempre al centro della sua attenzione, ma se ne è parlato anche nei giorni scorsi, quando la Regione ha presentato il piano di attuazione del PNRR. Lei è tornato a ribadire l'urgenza, comunque, di un potenziamento della struttura. Sì, noi pensiamo che avere la Guardia Medica in H24, avere la Casa della Salute aperta il sabato mattina, come tutti gli uffici pubblici, perché chi lavora e può andare al sabato mattina negli uffici, se li trova chiusi diventa un problema. E soprattutto quella è una struttura in prefabbricato modulare che può essere potenziata, penso, a tutto quello che non è ospedale, per semplificare, perché poi ci sono gli ospedali di Pizzero, Fanno, Urbino, Diancona e così via. Lì, tra l'altro, si è molto vicini all'Emilia Romagna, quindi c'è anche una mobilità che costa la Regione. potenziare quella Casa della Salute realizzando, diciamo, dei moduli più importanti che prevedono la presenza dei pediatri, dei medici di medicina generale, la medicina specialistica, la medicina del lavoro, la medicina sportiva, tutto quello che si può fare lì e non si capisce perché si dovrebbe andare a Pizzero, Fanno, Urbino, fare 18 chilometri, 50 mila abitanti per dei servizi che si possono fare lì. Spero, io sono ancora molto ottimista e fiducioso, ho fatto una chiacchierata con il Presidente della Giunta regionale, ho buone ragioni per sperare, insomma, che ci sia un'attenzione e che competta con i privati. Sono due poli anche privati, uno verso, diciamo, l'Alto Montefiltro e uno verso Pizzero. Chi ha più filo lo tesse, e quindi una competizione, una sana competizione tra pubblico e privato a favore dei cittadini. Anche perché sulla salute, lo sappiamo, non si scherza, e i minuti a volte sono fondamentali per salvare. Lì è, diciamo, un binomio importante, direi, la salute e il lavoro. Noi abbiamo un centro per l'impiego di peso, il punto in formazione al lavoro di Morciola con cinque laboratori per la formazione professionale. se tutti hanno il lavoro, lì si prevedono 500-600 posti di lavoro, se tutti hanno il lavoro, forse hanno meno problemi anche di salute. E viceversa, se uno ha la salute, poi c'è anche il lavoro, e poi c'è anche un po' di attività culturali, teatrali, diciamo, ha molte attività sportive. Noi lì abbiamo una infinità di impianti sportivi, non è un caso, insomma, che abbiamo due squadre, tutti e due in Serie A, Ital Service che dice che ripesano, ma la fabbrica c'è l'Atalacchio, e Megabox che gioca la femminile di Serie A, che ha vinto anche ieri, e che, insomma, danno l'idea che c'è una forte vivacità, anche nel calcio, altre discipline sportive. Sindaco, abbiamo una domanda per lei, è una questione privata, però vediamo se riusciamo ad aiutare la cittadina. Ho un piccolo appezzamento di terreno che, come da piano regolatore, è edificabile, ma nella realtà non si può edificare, perché con le regole di stare tanti metri o lontano, nei quattro lati, con i confinanti, non si riesce a costruire niente. Chiede, posso presentare domanda di declassamento del terreno? Certamente sì, io ho una specie di filo diretto, tutti quelli che vogliono parlare per telefono al mio cellulare lo possono fare, lo ripeto anche stasera, 338-84-60-162. È sempre disponibile? È sempre disponibile, perché io penso che la politica sia un servizio, e quindi uno che ha bisogno di parlare col sindaco non deve fare la fila o aspettare mesi, può contattarlo direttamente, avere l'appuntamento, anzi anche domattina, se mi chiami, io vado prestissimo in comune, quindi penso che si possa trovare una soluzione. Mi piace come ragione, dovrebbe essere preso da esempio, ma c'è un'altra azione molto interessante che avete fatto nel vostro comune e riguarda i cassonetti intelligenti. Abbiamo anche una slide, chiedo alla regia di farla vedere, così cerchiamo di spiegare anche come funziona una foto. Sì, noi abbiamo accolto volentieri una proposta che poi è arrivata da Marche Multiservizi a Pesero, a Montalabate, a Vallefoglia. In sostanza uno dovrebbe pagare per quello che porta nei cassonetti, oggi si paga in base alle metrature, è un'esagerazione e quindi si tratta di educare anche le persone a non lasciare i rifiuti in giro per i campi, per i fossi, nelle scarpate, come si fa. Quindi è un modo anche per educare le persone, responsabilizzarle, perché se uno viene controllato, ha anche più responsabilità. In più paga per quel che produce come rifiuti. Quindi se viene finanziato dai fondi europei, probabilmente questo servizio su Pesero, Montalabate, a Vallefoglia, darà una marcia in più anche ad un miglioramento ambientale. Come funziona? Con la tessera sanitaria oppure c'è una tessera ad hoc? Sì, un po' tipo tessera sanitaria, che in qualche modo uno pensa che gli complica un po' la vita. In verità non è proprio così, perché poi ci abituiamo anche come vediamo con il Covid, uno s'attrezza e dà le risposte positive. Quindi pensiamo, insomma, adesso il primo momento è quello di vedere se finanziano questi tre progetti importanti di queste tre città che sono confinanti. Pesero, diciamo, Vallefoglia e Montalabate. Sono stati siglati anche degli accordi importanti, ne parleremo tra poco, perché sono stati intanto determinati gli indirizzi e i criteri per una nuova gara con la quale affidare la gestione del servizio di assistenza domiciliare e scolastica che riguarda le persone diversamente abili, quindi un'attenzione importante anche verso i più fragili. Sì, noi pensiamo che l'ambito sociale che si occupa di tutti i comuni, dei sette comuni del Compressorio Pesarese, possa gestire direttamente, diciamo, il servizio evitando di fare cinque o sei appalti, insomma, ogni comune fa il suo appalto. E poi pensiamo in quell'area di avere dei servizi importanti, un po' lo stesso ragionamento che facevo per altre cose, evitando le persone diversamente abili di trasportarle nei tre centri classici Pesolo, Fano e Urbino. Noi lì distanziamo circa 18 chilometri, anzi, su Fano sono più di 20, 22, 23 chilometri, quindi ci sembra abbastanza nussurdità. Quindi con l'ambito sociale stiamo ragionando perché quell'area che ha circa 50.000 abitanti, più Gabicce e Gradara, che hanno oltre 10.000 abitanti, rispetto ai 96.000 di peso, si capisce perché non devono avere i servizi nei loro territori, in un'area omogenea, insomma. Quindi, diciamo, quell'appalto va in questa direzione. Poi ci sono, come dicevamo prima, tanti lavori in corso, dagli asfalti alle luci. Cerchiamo di parlarne anche con le foto che vediamo scorrere in sovrimpressione, perché, ecco, dicevamo, di queste strade, di questo piano che è partito. Sì, adesso ripartiranno... Partiamo da Montecchio. Sì, adesso ripartiranno di nuovo gli asfalti e oramai siamo all'ottavo anno e abbiamo messo ogni anno 3, 4, 5, 600 mila euro di asfalti e diciamo che, non dico che siamo il comune più sicuro in assoluto, però, insomma, la sicurezza stradale, evitare le buche, evitare i disagi, rendere le strade più sicure è uno degli obiettivi. Poi abbiamo le strade, diciamo, le ciclopedonali, abbiamo 200 mila euro di lavori in corso, finanziamento del Ministero degli Interni per, diciamo, realizzare tutte le lampade a LED e rimettere in sicurezza anche, diciamo, il tracciato delle piste ciclopedonali. Quindi facciamo in modo che ci sia un sistema. Noi abbiamo oltre 20 chilometri su 15 mila abitanti di piste ciclopedonali. Stiamo realizzando insieme alla Regione un percorso di ciclopedonali che va da Pesero a Carpegna, quindi lungo tutta l'asta fluviale del Foglia, che consenta anche di andare a lavorare o a piedi o in bicicletta chi non vuol prendere l'autobus. Stiamo ragionando con l'AMI per fare, diciamo, una riorganizzazione dei servizi di trasporto e di mobilità in funzione dei posti di lavoro. Ho citato due o tre fabbriche importanti e ho citato questo intervento di coesione sociale di Civitas Marche che sono 200 alloggi, mini alloggi per persone non autosufficienti. È chiaro che vanno riorganizzati i trasporti in funzione dei posti di lavoro per incentivare l'uso del mezzo pubblico e poi noi abbiamo questa grande idea, secondo il mio punto di vista, che è quella di avere un collegamento guardando lontano, guardando al futuro, ferroviario, Pesero, Fano, Fossombrone, Urbino, Vallefoglia, Pesero, questa metropolitana fuoriterra leggera che consente, io sono stato per le feste di Natale a Ginevra, non ho toccato la macchina perché c'è un sistema di mobilità che è talmente efficiente, efficace che uno, voglio dire, viaggia nella città da un quartiere all'altro, da un luogo all'altro con, diciamo, una forte riduzione dell'inquinamento, gli incidenti. Poi per quello che riguarda i lavoratori è un modo anche per integrare il salario. Io mi ricordo quando lavoravo alla Yifi chi poi pagava l'abbonamento dell'autobus era l'imprenditore. Almeno si può ragionare di fare un po' e un po' e comunque se un abbonamento costa 20-30 euro e se una parte vengono pagate dalle imprese e comunque uno è più tranquillo perché viaggia con comodità, senza stress e così via. Quindi credo che sia anche questo la riorganizzazione dei trasporti pubblici locali in questo comprensorio molto importante. E poi lo studio, ho ringraziato sia il Presidente della Giunta regionale che è l'Assessore ai Trasporti Baldelli per, diciamo, questo studio di fattibilità per questa metropolitana fuoriterra che dovrebbe coinvolgere anche la vallata del Foglia. Come coinvolgiamo col nuovo depuratore migliorando le condizioni igienico-sanitarie e ambientali di due vallate, la vallata dell'Aps e la vallata del Foglia. Importante anche dal punto di vista turistico, no? Quindi non soltanto per residenti, per i lavoratori ma anche per cercare di far conoscere appunto l'intera vallata. Noi pensiamo che il turismo debba essere un pezzo del sistema economico e produttivo di una città, di un'area industriale che però, partendo dai borghi storici, tre borghi storici, partendo da un paesaggio, dall'ambiente, in una gastronomia ancora si mangia come si mangiava centinaia d'anni fa in questi luoghi. Anche il turismo possa essere un pezzo del sistema economico e produttivo e quindi creare lavoro, ricchezza, crescita, piena occupazione, perché quello è l'assillo che noi abbiamo, che quando tutti hanno il lavoro è un'altra partita, insomma. La gente è più tranquilla, è più serena. Assolutamente. E vive meglio. A Morciola, in Piazza Europa, sono iniziati i lavori di manutenzione sul marciapiede dietro alla palestra, anche quello era malorato, quindi aveva bisogno di una manutenzione in questo caso straordinaria. Sì, lì è una lottizzazione tutta privata, abbiamo fatto un intervento abbastanza importante, tra l'altro quella è Piazza Europa e la Giunta ha deciso di chiamarla Piazza Europa David Sassoli, fermo restando che... A memoria del Presidente del Parlamento Europeo. Sì, che era un grande amico e che era venuto tantissime volte lì da noi, io tra l'altro ho stato candidato al Parlamento Europeo insieme a lui, poi era una personalità con delle idee molto forti a livello europeo, nel rapporto con gli altri paesi, salvo ovviamente l'autorizzazione della famiglia e le procedure amministrative e burocratiche della Prefettura, insomma. Quindi Piazza Europa, Piazza Via del Milite Ignoto, faremo dell'iniziativa anche su questo, la sistemazione di un percorso pedonale che dà maggiore sicurezza a quella lottizzazione e poi insieme ai privati si sistemaranno anche le aree private che sono condominali, insomma. Ecco, però lavoriamo insieme per il bene della comunità. Dicevamo, prima accennavamo di questi accordi, patti che sono stati siglati, intanto quello con il Comune di Montelabate e con degli obiettivi, con degli scopi ben precisi, una sinergia ecco tra i due enti. Sì, con il Comune di Montelabate abbiamo, diciamo, una affinità, abbiamo sottoscritto un accordo su 5-6 punti che ci accomunano, stiamo lavorando insieme alla provincia per una ciclo pedonale che recupera la vecchia Abdagna, quella in ferro, la passarella a fianco al ponte, che era il ponte storico di Montelabate, prima che ci fosse il ponte, che toglie un po' di traffico anche nel collegamento Montelabate-Cimitero degli Inglesi, Montecchio, e poi abbiamo in Comune, diciamo, dal punto di vista storico, culturale, è anche messaggio di mai più guerre che di grande attualità in queste ore, perché la linea gotica, ahimè, è stata una delle vicende più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale, e poi anche un percorso turistico, perché molti pullman di turisti vengono da tanti paesi europei e del mondo, perché ci sono africani, inglesi, canadesi, in quel cimitero di Gabice Gradare e anche di Montecchio, che ci accomuna con Montelabate. Poi abbiamo, diciamo, per esempio il Papa tedesco, che è morto alla Psella di Montelabate, Papa Albani, che ci accomunano la storia di questi due papi in questi due comuni. Abbiamo un taglio anche culturale di non sciupare troppo il territorio, costruire, recuperare tutto quello costruito, sia in termini di aziende, sia di abitazioni, quindi un'attenzione ai temi dell'ambiente, della sostenibilità. E poi, insomma, non si capisce bene nemmeno il confine, parliamoci chiaro, perché quelli che sono nati e cresciuti lì sanno i confini. Altri invece pensano che sia tutt'uno, insomma. e quindi lavorare insieme forse riusciremo ad avere qualche chance in più anche per avere qualche finanziamento dalla Regione, dallo Stato nazionale e perché no anche dall'Europa. Quindi si costituirà anche un gruppo tecnico per elaborare i progetti e portare a casa delle risorse per i cittadini. E quindi pensiamo che sia importante. Stiamo lavorando anche con altri comuni, per esempio quando parliamo i duecento anni dalla morte di Giulio Perticari, stiamo lavorando insieme a Pesero, stiamo lavorando insieme a San Costanzo, stiamo lavorando insieme ad altri comuni, perché lavorare insieme siamo tutti un po' più forti. forse vediamo anche meglio. L'Unione fa la forza, esattamente. Certamente. L'Unione fa la forza e poi più occhi, più teste, vedono sempre meglio. E più finanziamenti, come diceva Avrilano giustamente. Sì. Che poi vanno a riga chi dice che vogliamo fare la fusione con Montalabate, io ho detto, guardate che io vengo dalla storia della fusione dei due comuni, noi abbiamo avuto un milione e quattrocento mila euro per dieci anni che sono investimenti a favore dei cittadini. Non è una questione... Quindi dei vantaggi concreti. Quindi è molto importante Monticicardo, che non aveva una risorsa, la volla fusione con Pesolo ha un fior di quattrini per sistemare diciamo le cose dei cittadini di Monticicardo. E c'è stato anche un altro patto, però ne parleremo tra poco perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Bene, siamo tornati in diretta con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Prima di andare in pubblicità parlavamo di questa intesa con il comune di Montalabate e ora passiamo a un altro patto, quello con la Guardia di Finanza per contrastare l'evasione. Anche qui molto importante. Noi pensiamo che la trasparenza sia uno degli elementi fondamentali del governo di una comunità. Quest'accordo con la Guardia di Finanza in sostanza dà l'idea che tutti i contributi che il comune dà alle persone di qualsiasi genere o anche l'affidamento, l'assegnazione delle case popolari o comunque tutto quello che ha a che fare con il comune c'è controllo della Guardia di Finanza. Quindi la gente deve avere un rispetto delle regole e comportarsi in maniera corretta come avviene del resto. Però questo è un deterrente in più per rispettare le regole, rispettare le norme e anche un messaggio che la Guardia di Finanza, oltre che i Carabinieri, la Polizia del Stato, c'è anche in quell'area che è molto importante, molto ricca economicamente. E poi diciamo che c'è un'attenzione ai timidi, della sicurezza. Io ho avuto, anche se non l'ho reso pubblico, questo incontro con il prefetto, il questore, tutti i comandanti delle diverse polizie, Guardia di Finanza, Armi Carabinieri, eccetera. Per questo polo della sicurezza? che dà l'idea che quella città che sta crescendo, che sta aumentando gli abitanti, che sta aumentando diciamo i lavoratori che vengono dalla provincia d'Ancola, dalla provincia di Rimini, da tutta la provincia di Pesurbino, c'è chi, diciamo, controlla e chi contrasta anche la malavita organizzata che chissà mai volesse pensare di infiltrarsi in un'economia che è un'economia solida, sana, di imprenditori che non è un caso che abbiamo messo alla valle del fare, ci sono imprenditori che vogliono fare, che fanno, che hanno genialità, che hanno inventiva, che hanno intelligenza, che investono, che creano lavoro, benessere, crescita e futuro. È chiaro che un polo per la sicurezza, niente di più, niente di meno, come Pesurbino, Fano, Vino, come le altre città, adeguato ad una realtà che è in forte crescita. Quindi, diciamo che è molto importante avere una presenza, in primo luogo quella dell'Arma dei Carabinieri, che ringraziamo quotidianamente per il loro servizio che fanno in quel territorio, ma anche la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, le polizie che ci sono nel territorio. e poi, diciamo che, parafrasando col nuovo depuratore, noi abbiamo in corso, oramai in via di Ultimazona, se dovrebbero rifare gli asfalti, 2 milioni di investimento extra bilancio, 7 milioni extra bilancio sul depuratore, ho citato le 200 mila euro sulle piste ciclopedonali, sulla depurazione, diciamo, di due borgate importanti, Montefabri, uno dei borghi storici più belli d'Italia, il Monte di Colbordolo, dove abbiamo realizzato, un intervento che poi è stato realizzato da Marche Multiservizi, sulla base della programmazione del lato, però, 2 milioni di euro di investimenti in ambiente, metanizzazione, depurazione, quindi risanamento igienico e sanitario, metanizzazione, contenimento dei costi, di questi tempi che costa tanto l'energia, e, diciamo, maggior valore anche delle abitazioni di quelle zone, quindi come si vede c'è una costanza in tutti gli investimenti, quasi in tutti i settori di quel territorio. Vorrei tornare un attimo al polo della sicurezza perché sono curiosa, lei, mi ricordiamo, anche ha sollecitato più volte il Ministero dell'Interno, ma visto che ha avuto questo incontro con le forze dell'ordine, con il prefetto, crede che concretamente si possa fare questa caserma? Ma allora, io penso che quell'area abbia diritto, come Fano e Pedro, di un polo per la sicurezza adeguato per una città di 60 mila abitanti Fano, 96 mila Pesano, 50 mila in quell'area. Quindi il prefetto è d'accordo. Non siamo di serie C, siamo di serie A come i pesaresi, i fanesi e gli urbinati. Il prefetto è d'accordo e il problema è che intanto ha rafforzato un po' l'arma dei carabinieri. Intanto c'è una maggior vigilanza della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza come si vede su tutti i temi. E poi noi pensiamo che lì bisogna realizzare una nuova caserma per i carabinieri e diciamo un polo per la sicurezza. Abbiamo individuato Montecchio come caserma dei carabinieri e come è avvenuta a Pesero, per esempio i carabinieri che stavano da parte, i guardi finanzi della Polizia di Stato stanno vicino l'Iper. Noi pensiamo che nel centro commerciale di Bottega di Vallefoglia possa essere un luogo messo a disposizione gratuitamente nel centro commerciale del Comune per la Guardia di Finanza della Polizia di Stato e l'arma dei carabinieri e la nuova caserma Montecchio come obiettivo strategico sul quale non moleremo di un millimetro. Intanto ecco ringraziamo il prefetto e questore tutti i comandanti delle forze di polizia per avere quell'attenzione che ci consente di contrastare il falomero malavitoso e di avere sotto controllo il territorio. Che è fondamentale. Andiamo avanti e cambiamo argomento anche qua vediamo un nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico in questo caso parliamo di 50 mila euro una gestione associata. Quali sono i vantaggi? I vantaggi che lavorare insieme come ho detto non solo si risparmia ma di solito si fa anche meglio noi abbiamo avuto un affidamento ad una nuova ditta una nuova impresa come si vede per inadempienze della precedente ditta l'affidamento è stato fatto alla ditta onorati da parte della regione e quindi diciamo sei pullman sei autisti un buon servizio non lasciamo a piedi nessuno e cerchiamo di fare in modo che ci sia una qualità superiore del servizio fatto insieme a tutti gli altri comuni anche per gli utenti con disabilità anche per gli utenti con disabilità anzi con maggiore attenzione per gli utenti con disabilità perché insomma crediamo che insomma tutti devono avere le stesse identiche opportunità rimaniamo un attimo in strada e parliamo dell'autoparco Vallefoglia Ovest quindi questa cittadella dedicata ai camion un servizio ma noi pensiamo di qualcosa di più nel senso che staremo realizzando abbiamo avanzato una scheda progettuale per diciamo innalzare diciamo il palla di Onigi per consentire a Megabox di giocare a Montecchio alzarla a 8 metri e diciamo realizzare altri 500 posti da 1500 posti per le partite e abbiamo cercato in qualche modo di dare una risposta anche a questo tema che poneva lei e cioè quello mi diceva scusi dell'autoparco dell'autoparco con tanti servizi connessi perché pensiamo che quell'area sia un'area simile a quello che c'è già che si è già realizzato e che è l'area della Tamoil vicino a Monte Labate proprio nel confine vicino al ponte e cosa c'è lì? L'autoparco c'è un ristorante noi là prevediamo anche un punto ristoro e un alberghetto tipo quello che abbiamo lì al Blue Arena anche l'area a sosta per i camper la stazione un'area per i camper per l'autotrasporto sono molti gli autotrasportatori un'area una officina lavaggio un distributore diciamo per i mezzi oggi che sono tutti elettrici e quindi diciamo lì era previsto fra lì e Pianderbrusco si tratta di vedere bene anche l'eliporto perché quando c'è un'emergenza o vanno nel campo sportivo o c'è una struttura per diciamo far atterrare anche l'elicottero quindi un'area in una posizione abbastanza strategica quella di Talacchio che diciamo con la nuova viabilità data all'ANAS della Pesaro Montecchio Lunano Sant'Angelo di Vado Grossetto e con la Pesaro Urbino sempre dell'ANAS la viabilità che da Morciola va a Talacchio c'è un progetto che prevede l'ammodernamento di quel tracciato che va a bypassare gli abitati di Rio Salso e di Borgo Massano cioè l'ultimo tratto della Fogliense che si ricollega con il cosello dell'autostrada di Pesaro e quindi questo autoparco Valle Foglia Ovest assume una funzione strategica in funzione di una zona industriale che una volta dicevano tutti i capannoni vuoti in verità Talacchio sono tutti i capannoni pieni e sono capannoni recuperati da tante aziende che investono in quell'area quindi è un'area che diventa strategica quindi l'autoparco Valle Foglia Ovest è abbastanza diciamo interessante interessante per chi vuol fare degli investimenti e gestire perché l'autoparco alla Tamoil è gestito dai privati è tutta proprietà del comune come lì lì è proprietà del comune tra l'altro abbiamo chiesto anche le donne notizie anche agli amici del pesce azzurro se vogliono fare anche un punto ristoro del pesce azzurro in quell'area per tutta la parte interna della provincia verrebbero a fare il sopralluogo e quindi vediamo anche questo quindi farla diventare un'area che è fortemente diciamo movimentata da tante attività e quindi questo pensiamo che può essere un investimento poi con le risorse che ci sono in questo periodo per il nostro paese dall'Europa è probabile che abbiamo anche qualche chance per chiedere dei finanziamenti per una struttura importante sulla mobilità insomma sulla ristorazione e perché no anche su attività di mobilità alternativa rispetto all'uso della diciamo esagerato dell'auto perché ogni persona va via con la propria macchina insomma quindi se avremo problemi di inquinamento atmosferico bisogna trovare delle alternative aiuti agevolazioni per le imprese ma anche per le famiglie in questo caso per il caro bollette se ne parla tanto in questi giorni oggi tra l'altro è arrivata la mia e quindi insomma si capisce si percepisce questa difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche e quindi andati in soccorso alle famiglie ma io francamente faccio fatica a capire le ragioni per le quali sono scomparse le materie prime e perché ci devono essere tutti questi aumenti veramente è incomprensibile è chiaro che questo vale per le famiglie quelle più bisognose ma vale anche per gli enti locali per i comuni per le province per le regioni perché la spesa del gas metano la spesa dell'acqua la spesa dell'energia elettrica noi per esempio facciamo un investimento di un milione e mezzo di euro con Consip per sostituire tutte le lampade quelle che ancora sono sostituite a led per tagliare la metà del costo dell'energia se poi ci aumenta del 20-30-40% alla fine salta anche il bilancio del comune è un'assurdità che i potenti consentono di dirlo così in maniera semplice della terra fanno scomparire tutte le materie prime raddoppiando i loro utili quadruplicando i loro utili e pesando sulla povera gente quindi ci sembra un'assurdità ho visto che ha messo diverse risorse il governo vediamo se sono sufficienti noi abbiamo cercato di andare incontro alle persone non lasciando solo nessuno nessun nucleo familiare un po' di investimenti di interventi dello Stato un po' anche dal bilancio del comune tenga conto che noi dal bilancio del comune per la spesa sociale spegniamo quasi un paio di milioni di euro in un bilancio di circa 18-20 milioni insomma comunque importanti i contributi messi stanziati dal governo ma fondamentali anche quelli del comune perché gli aiuti non sono mai abbastanza in questi casi per aiutare famiglie per aiutare imprese la situazione comincia a essere drammatica c'è chi parlava di un lockdown economico addirittura associazioni di categoria che ci raccontavano i giorni scorsi degli aumenti del 200% veramente fondi ci sembra veramente un'assurdità bisogna trovare modo di dare una mano alle persone che sono in difficoltà anche le imprese in un'area che come diceva all'inizio è un'area dove la gente ha il coraggio di investire e di creare lavoro e occupazione in quell'area avere 500-600 posti di lavoro in più grazie alle imprese che sono competitive a livello internazionale è chiaro che se raddoppia tutti i prezzi delle materie prime se scompaiono le materie prime solo il campo delle opere pubbliche se uno deve appaltare un'opera pubblica adesso non ci sono i materiali in più costa il 30-40% 20-30-40% in più è un'assurdità cambiamo argomento spostiamoci nell'area di Pian del Bruscolo quali sono i progetti appunto che riguardano questa zona lei ha parlato anche di una maxirotatoria di pensiline insomma ci sono delle iniziative ma lì sono in corso un paio di pensiline una per la scuola media e una per la scuola materna è previsto un consolidamento un adeguamento all'attuale norme per circa 2 milioni di euro della scuola media che sono oltre 600 ragazzi soprattutto provenienti da Vallefoglia e da Tavuglia è previsto il raddoppio della piscina per circa 4 milioni di euro soprattutto con grande attenzione alla disabilità stiamo lavorando con la provincia che dovrebbe mettere a disposizione un'area che è di proprietà della provincia dandolo in comodato alla Unione dei Comuni perché lì è programmato un nuovo campo di calcio un campo per l'atletica altre attrezzature sportive importanti è prevista una rotatoria ho già avuto modo di parlare con la regione di vedere con l'ANAS perché quella strada nel frattempo è diventata statale abbiamo un nido di 120 posti credo che sia un gioiellino un unicum nel sistema marchigiano che chi ha la fortuna di lavorare marito e moglie si può portare il bambino la mattina alle 7 riprendo la sera alle 7 è veramente un aiuto notevole una struttura importante un supporto alle famiglie poi lì abbiamo dei servizi di sostegno alle famiglie ai bambini più problematici e quindi diciamo che è una realtà in cui c'è di tutti e di più insomma è veramente una realtà molto importante e poi lì è collegata anche con diciamo un sistema di piste ciclopedonali io spero presto anche con un trasporto dell'Ami che arriva oggi fino a Montecchio l'area composite lì nell'area delle grotte di Montecchio fino a Padiglione perché no magari Borgo Massano Rio Salso in maniera tale che si possa avere una opportunità di andare a lavorare in autobus lasciando la macchina a casa riducendo gli incidenti riducendo l'inguinamento atmosferico integrando anche il salario magari con un accordo e anche la salute perché ci si mantiene in movimento e anche la salute perché ci si mantiene anche in movimento non è un caso lì che per esempio c'è una ciclopedonale dalla piscina della scuola di Pian de Brusco che va a Bottega dove nasce il teatro Giovanni Santi che è fatto prima di tutto per le scuole e che possono andare a teatro a spettacoli teatrali a animazione culturali delle scuole lì c'è un polo scolastico di primordine di contrasto alle mafie a Bottega proprio a fianco dove nasce il nuovo teatro e poi abbiamo le scuole medie c'è un ponte in legno realizzato insieme dai comuni della provincia quindi chi vuole andare a teatro a fare attività motorie lo può fare a piedi o lo può fare in bicicletta insomma delle belle iniziative e dei progetti importanti Sindaco grazie per aver raccontato e aggiornato i suoi cittadini su tutto quello che riguarda il Comune di Vallefoglia grazie a lei grazie ai cittadini anche per la collaborazione a me fa sempre piacere quando arrivano messaggi suggerimenti e critiche che ci aiutano a fare meglio a governare con una partecipazione che non è più quella di una volta delle piazze ma è una partecipazione che avviene attraverso Whatsapp attraverso le telefonate attraverso i messaggi sono cambiate le modalità cambiate le modalità però ci aiutano tanto quindi li ringraziamo certo ringrazio invece la regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora e un nuovo ringraziamento al Sindaco Palmiro Chielli buona serata a lei buona serata a tutti voi grazie grazie a tutti